Gran finale sono le 22 e 24 del primo maggio 2023 La storia è stata scritta di nuovo, il Frosinone è promosso in Serie A Questo mi scorre nelle vene, adrenalina pura Ho il cuore di gomma, ma buppo così forte che non sento la paura Quanta energia e quanta voglia abbiamo messo all'interno di questo periodo Abbiamo fatto una cavalcata incredibile e pensare a tre giornate alla fine di aver raggiunto il traguardo è qualcosa di incredibile Perché per fare quello che abbiamo fatto oggi non bastavano ragazzi e uomini normali, servivano ragazzi e uomini speciali Il mio obiettivo in questo momento è aver dato la gioia a questa città Abbiamo creato un gruppo ma soprattutto abbiamo creato quella voglia di divertirsi e di arrivare a quel sogno che tanti di questi ragazzi meritavano, meritano e se lo devono godere Il campionato diciamo stradominato, con i miei compagni è una cosa indescrivibile, infatti non riesco nemmeno a scrivere perché sono un po' emozionato, sono completamente in estese Noi dentro lo spogliatoio del primo giorno ci siamo detti partita o partita, lavoro paga, paga, questa è la verità ragazzi Bravissimi ragazzi, bravissimi Vi ricordate la prima giornata quando abbiamo detto vi portiamo noi la gente allo stadio? Ve lo ricordate o no? 5 anni dopo, per la terza volta nella storia, il prosinone è promosso in Serie A